Con il metodo delle farfalle è possibile confrontare frazioni con denominatore diverso. Ad esempio, tre quarti e cinque sesti. Moltiplichiamo il numeratore della prima per il denominatore della seconda e il numeratore della seconda per il denominatore della prima. 3 per 6 fa 18. Scriviamo il prodotto accanto al numeratore. 5 per 4 fa 20. Ora, 20 è maggiore di 18. 5 sesti è maggiore di 3 quarti. Vediamo un altro esempio. 7 noni e 5 settimi. Moltiplichiamo 5 per 9. E scriviamo il prodotto accanto al 5. Fa 45. 7 per 7 fa 49. E lo scriviamo accanto al numeratore. Ora, 49 è maggiore di 45. Quindi, 7 noni è maggiore di 5 settimi. E ancora un altro esempio. Vediamo 3 ottavi e 4 noni. Moltiplichiamo 4 per 8 e scriviamo 32. 3 per 9 fa 27. 4 noni è maggiore di 3 ottavi. Abbastanza 3 per 8 miillussculo. Cosa un'attorno a 1 ottavi. Vнова pensare 2 o'altro. 4 muri. Cevano 3 settimane.